amici degli aspriglias bentornati al punto sull'avversario questo weekend ci sarà il grande match con i nostri amici della Samp che accorreranno in massa al nostro mitico Ennio come andrà la conferenza dei servizi chi lo sa a proposito dell'Ennio arriva la Samp che è una squadra estremamente in difficoltà sotto ogni punto di vista direi sia sotto l'aspetto societario economico finanziario e anche purtroppo sportivo è una Samp che è partita con due punti in meno di penalità dovuti al mancato pagamento dei contributi IMSS e delle ritenute IRPEF nel primo trimestre di quest'anno motivo per cui si trova il sedicesimo posto con solo due punti visto che teoricamente ne avrebbe quattro in sostanza ne ha però due frutto di una vittoria un pari e ben tre sconfitte amarassi che hanno fatto arrabbiare alquanto i nostri amici blucerchiati è una squadra sostanzialmente che ha un saldo negativo dei gol perché ne ha segnati cinque e subiti otto tanto per farvi un'idea il nostro parma che è in testa con 13 punti ne ha fatti 11 e subito uno sul rigore inesistente peraltro l'allenatore pennellatore andrà a pirlo il mago su quali io non ho tro forti dubbi sulle sue capacità di diventare un grande allenatore come molti lo dipingono diciamo che il mago insomma da parte sua qualche scusante ce l'ha nel senso che la sampdoria ha fatto un mercato sostanzialmente a un pareggio in quanto è stata rilevata da raddrizzani e manfredi dal da quel bravo uomo di ferrero il quale che nonostante diverse posizioni durante l'estate alla fine l'hanno avuta vinta i due nuovi soci che pare siano in cerca di eventuali nuovi azionisti questo perché perché la società sampdoria era sull'orola del baratro e è stata salvata veramente per il rotto della cuffia motivo per cui non può fare mercato quindi anche quest'estate ha lavorato a saldo zero anche la dirigenza con il sottofondo sempre il gradito ferrero sono in attesa del parere della fgc sul sulla ristrutturazione del debito controllo scusate si pare essere un passaggio formale questo della fgc ma sarà fondamentale nel senso che nelle prossime due sessioni di mercato in cambio sostanzialmente di essere salvati spalmando i propri debiti con lo stato ottenuto di iscriversi al davis sostanzialmente pur non facendo mercato né quest'anno né probabilmente tutto l'anno prossimo anche giugno 2004 proprio sotto questo aspetto c'è ancora qualche punto interrogativo in sostanza potrà agire solo a saldo zero sia un giocatore guadagna un milione di euro e viene venduto per 9 ecco la sandoro avrà 10 milioni da spendere come vuole più o meno così ci sono due strade o ha un aumento di capitale allora questa cosa potrebbe risolvere la situazione o diversamente la samp io personalmente la vedo molto in difficoltà molti hanno parlato di una samp quasi come la juve dell'abc juve come tifoseria anzi molto meglio quella della samp non per simpatia ma non c'è paragone hanno una marea di abbonati a record di abbonati hanno 20.000 persone allo stadio hanno un casino di gente in trasferta di tifosi meravigliosi che saranno anche in quattro addirittura forse 5.000 nella festa che si terrà questa domenica al tardini ora sperando che il nostro paolo insomma faccia il suo dovere contro questa squadra che parlando infine di questioni tecniche è povera di qualità ha solamente un grande talento che è pedrola che è in prestito lo spagnolo veramente forte e anche non male come fisico anche se comunque essendo giovane non ha nemmeno vent'anni forse un po' è un po' esile ancora ma è veramente forte poi hanno verra in mezzo al campo però sostanzialmente anche il povero pirlo pur essendo un fenomeno si trova a gestire un giocatore come De Paoli il mitico capitale De Paoli che a volte gioca in attacco a volte gioca in difesa a volte gioca centrocampo perché se De Paoli è il più forte della squadra questo è quanto il buon quagliarella forse qualche golletto poteva metterlo gestendolo all'alta fini visto che davanti si ritrovano con Pedrolla ha citato Pedrolla che comunque è forte Lagumina o Lagumina non ho mai capito come si pronuncia che segna una volta ogni morte di papa ha bel gol domenica ha fatto una bella girata d'attaccante però è quello che è e poi c'è il mitico Borini che tornato dalla Turchia si vuole rilanciare nella Samp ora ci sono due espertoni e uno molto giovane ma di bomber non ce l'hanno e gli altri hanno De Luca però insomma non è un bomber in mezzo al campo c'è Ricci che non è male e come già citato Verre è un buon giocatore ecco in difesa c'è solo Moro decente il portiere Stankovic non è male sulle fasce hanno Bereginski Stojanovic o De Paoli quando fa giocare lì Giordano di là poi purtroppo per la Samp si è fatto male il Ferrari che hanno tenuto che si è infortunato è stato promosso titolare Ghilardi che però non sembra essere all'altezza del dell'infortunato Ferrari quindi in bocca al lupo a tutti che vinca migliore che nel PERMA Grazie per la visione! Grazie a tutti.